L'ingegnere al 2020, una ricerca promossa dal Consiglio nazionale presentata per la prima volta a Rimini al vostro congresso di categoria, ora è riproposta in chiave europea? Sì, riproposta in chiave europea perché questo Consiglio nazionale ritiene che l'apertura all'orizzonte europeo e anche oltre europeo sia fondamentale per le giovani generazioni. Che cosa vuol dire in qualche modo competere in un mercato mondiale per un ingegnere italiano? Vuol dire confrontarsi con la qualità, confrontarsi col merito e riuscire ad essere presente anche fuori Italia superando quelle difficoltà che oggi troviamo per andare a lavorare all'estero. A suo modo di vedere l'ingegnere del futuro dovrà essere sempre più generalista o specialista? Rispondo così a entrambe le cose, nel senso che secondo me è giusto essere specialisti ma sapendo rispondere a una domanda generalista, nel senso che l'ingegnere deve sapersi porre le domande giuste e saper essere dentro un argomento sapendo tutto il processo ma anche con una visione specialistica. Quali sono i sistemi di formazione o meglio sono omogeni? Sono omogeni i sistemi di formazione degli ingegneri a livello europeo? No, attualmente non sono omogeni, così come non sono omogeni i percorsi formativi della scuola e dell'università ma in particolare nella professione riteniamo questo uno dei percorsi fondamentali cioè il riconoscimento della capacità più che della competenza in tutti gli stati membri. Grazie